Alessandro possiamo dire che tu sei stato il primo a crederci se andiamo indietro nel tempo? Ma più a crederci, il mio è un percorso che è rinato dopo il fallimento, una risalita che oggi prosegue, non si è interrotta, è stato difficilissimo, è stato un anno sofferto, difficile, però non abbiamo mollato, abbiamo tenuto botta e oggi è giusto che riscuotiamo quello che abbiamo sofferto in questi anni. Hai fatto una bellissima carriera, ma questa gioia dove la piazzi nella classifica delle tue gioie? Per il significato che ha per me la metto al primo posto, per il mio percorso, per il nostro percorso, per quello che abbiamo sofferto insieme era giusto così. Ora andiamo avanti per il prossimo scalino.